Onestà! 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 Per i comunali Palma e Risso, l'amministrazione Potiello deve andare a casa. Io penso proprio di sì, ma forse non ci doveva proprio candidare. Perché? Per tutte le problematiche che sto spiegando da mesi, assolutamente. L'amministrazione Potiello non è assolutamente adatta a questa città. Non dico che lo siamo noi, ma sicuramente più di loro. Abbiamo la speranza che giustizia sia fatta. Ovviamente per produrre un ricorso lo abbiamo fatto con cognizione di causa. A nostro avviso ci sono molte, insomma, sia illegalità che anche vizi di forma. Ci hanno informato dal meetup che praticamente ci sono stati i libri elettorali e siamo vicini, siamo venuti a dare la nostra solidarietà agli amici di Giuliano. Che significa quest'onestà, dato che a Quarto anche la Capozza dice di aver praticato l'onestà, nonostante ciò però è stata espulsa. Quarto e Giuliano sono due cose diverse al momento. L'onestà a Quarto riguarda appunto un ricorso fatto per broglie elettorali, mentre a Quarto c'è stato un altro problema che a mio parere poteva essere gestito in maniera diversa, come abbiamo detto anche nei nostri comunicati. Se il ricorso però non dovesse avere esito positivo per i grillini, i due rappresentanti in Consiglio Comunale non si dimetteranno. No, la giustizia deve fare sempre il suo corso. Una cosa è fare un ricorso, è mettere in conto che si possa perdere o vincere. Una cosa è vivere in una terra come questa, che è una terra di Camorra, in cui fare un ricorso stesso è vietato, perché se perdi poi pensi di doverti dimettere. Ma è una questione di giustizia. Non è che se perdi ti devi dimettere, non è la stessa cosa. Intanto anche nel movimento di Giuliano sono state fatte delle espulsioni. Due attivisti, Salvatore Pezzella e Antonio Pennacchio, sono stati infatti espulsi dal gruppo di lavoro. Era un po' di tempo che non lavoravano e non erano in sintonia con il gruppo. Non sono vere e proprie espulsioni, noi li aspettiamo comunque a braccio aperte nel caso dovessero cambiare idea, anche se ne dubito, perché insomma è da un po' di tempo che si sente parlare, sia Pezzella che dice di voler andare via, sia Antonio è comunque rimasto un ottimo amico, ma che politicamente adesso mi sembra un po' distante dal Movimento 5 Stelle. Dato che siete sicuri di vincerlo, questo ricorso, siete già pronti a prossima elezione? Dipende, dipende. Se dobbiamo imparare anche noi a comprare e a vendere i voti, no, non siamo pronti. Se dobbiamo fare la compagna elettorale onesta, sì, siamo pronti. L'onestà andrà di moda, non è una strada del Movimento 5 Stelle.